Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Bentornati nella nostra rubrica di bioetica. Fino a qualche tempo fa, quando si parlava di pornografia, lo si faceva unicamente in termini di morale sessuale, cioè il discorso veniva collocato all'interno della trattazione sui disordini della sfera della sessualità, anche giustamente. Oggi però, oltre a questo ambito, il tema viene trattato in maniera multifattoriale, multidisciplinare, perché ci si rende conto che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza pornografia. Il tema infatti riguarda anche gli aspetti, l'ambito della psicologia, della pedagogia, ma anche, per esempio, l'ambito delle dipendenze, soprattutto legate al mondo mediatico, digitale e anche quindi in termini sociologici. Ma, come vedremo tra poco, questo tema riguarda in realtà anche la medicina e in particolare la medicalizzazione della sessualità. Quindi sono tanti i contesti in cui la bioetica valuta il tema della pornografia. Teniamo conto, innanzitutto, in termini introduttivi, che, come dicono alcuni studiosi, oggi noi ci troviamo in una società che potremmo definire pornificata. Tanto il panorama hard si è fatto strada nel nostro tessuto sociale, nel nostro modo di pensare, nelle nostre scelte, nelle abitudini. Pensiamo soltanto alla presenza della realtà anche, diciamo, erotica, senza ancora arrivare a quella pornografica tale per cui trovare un film, una serie televisiva che non abbia scene anche piuttosto spinte di sesso è diventata ormai un'impresa. E questo ha delle motivazioni, soprattutto di tipo consumistico sicuramente, ma che si basano a loro volta sulle abitudini delle persone. Perché la persona che espone il proprio sguardo e quindi la propria mente ha la visione di queste immagini ricerca evidentemente uno stimolo, innesca anche uno stimolo che fa partire il sistema di gratificazione o ricompensa, cioè quello dopaminergico, che fa sì che la persona sia poi portata a ricercare questo tipo di emozioni, di sensazioni in maniera continuativa. E quindi è evidente che se io sono un produttore filmografico e non metto quel tipo di scene, rischio che poi i miei spettatori lasciano la serie tv, che ha tra l'altro oggi, come sapete, una concorrenza enorme e si dirigano verso altre, perché io non do loro, non do ai miei spettatori, questo tipo di stimolo. Il bombardamento dei media con allusione di carattere sessuale è talmente esteso che ha spinto il mondo della psicologia e della pedagogia a esaminarne l'impatto sulla psiche dei più giovani. Infatti l'American Psychological Association, l'APA, ha pubblicato un report nel 2007 proprio su questo argomento, andando ad analizzare i vari canali di diffusione, come la tv, ma anche i videogiochi, i video musicali, i film, i programmi sportivi, le pubblicità e persino giocattoli e cartoni animati. Sembrerebbe infatti, ma ne è credo anche nostra esperienza comune, in particolare il corpo femminile è evidentemente ultra strumentalizzato a qual fine? Evidentemente al fine che il pubblico maschile possa essere maggiormente incoraggiato o ad acquistare un certo prodotto o, come dicevo prima, a seguire una determinata trasmissione o programma televisivo. Pare che in questi canali digitali, in senso ampio, ma potremmo dire forse più correttamente mediatici, la donna appare tendenzialmente sempre meno vestita degli uomini, con pose più accattivanti e legate alla sensualità, più che essere invece valorizzata per la sua professionalità o per la sua capacità intellettuale. Pensate che addirittura, dicevo, cartoni animati e giocattoli spingono già verso un certo look già legato in qualche modo a questi aspetti. Pensiamo appunto all'industria della moda come sceglie determinati colori o all'industria appunto dei cartoni animati come disegna i personaggi a cui ovviamente bambini e ragazze in qualche modo si ispirano. Quindi in qualche modo c'è una iper-sessualizzazione sia di chi guarda sia di chi è guardato. Infatti è bene anche qui non scadere nella banalità di genere nel senso che spesso unicamente si considera l'oggettificazione che c'è evidentemente della donna. Ma in realtà se la donna è ridotta a oggetto in un certo modo in questo ambito lo è anche l'uomo o comunque colui che guarda perché diventa oggetto cioè schiavo e non più soggetto e quindi libero delle proprie pulsioni fino a diventare dipendente di queste immagini. Tanto che mentre nella sfera femminile abbiamo in base sempre a questi studi che citavo all'inizio di tipo psicologico una crescente attenzione un'eccessiva attenzione data al fisico delle ragazze quindi che possono anche portare loro a trappole come quelle dei disturbi alimentari se non addirittura più avanti alla chirurgia estetica. I maschi però dal canto loro avendo un accesso molto precoce purtroppo a queste immagini fino alla pornografia rischiano di confondere la sessualità reale con quella virtuale o comunque con quella che vedono che evidentemente non è reale. Questo compromette non solo ovviamente la loro moralità e quindi va a macchiare anche la loro anima la loro purezza la loro innocenza perché parliamo anche di ragazzini che hanno il primo accesso alla pornografia intorno ai 10-11 anni magari per caso ma comunque abbiamo dati di bambini vorrei dire ma anche vanno a compromettere ricevo basandosi proprio su una dissociazione tra il reale e la finzione che li può portare ad ansie da prestazione fino a addirittura come dire a generare in loro insicurezza ansia bassa autostima nella sfera relazionale poi sessuale tanto che noi abbiamo secondo gli andrologi una crescita di richieste di farmaci per la medicalizzazione della sessualità come il viagra per capirci che vengono richiesti non per motivi terapeutici o per motivi medici per indicazioni cliniche ma per migliorare la prestazione di ventenni ora la dicevo la pornografia viene oggi anche studiata in un altro contesto particolare che è quello delle dipendenze infatti oggi accanto alle dipendenze classiche da sostanza quindi l'alcol e le droghe troviamo dei disturbi psichici caratterizzati dalla adozione di comportamenti finalizzati proprio alla fruizione di esperienze gratificanti queste patologie emergenti vengono chiamate new addiction per esempio la dipendenza da gioco d'azzardo la dipendenza da shopping le dipendenze tecnologiche e anche la dipendenza sessuale non dimentichiamoci infine che il valore in gioco quello più profondo è ovviamente la dignità della persona il corpo sessuato che è un unicum appunto con la persona non è fatto per essere sporcato e buttato via in questo modo ma ha un valore che viene chiamato sponsale cioè ha la capacità di esprimere l'amore a partire dal riconoscimento dell'altro come persona su questo devono basarsi le relazioni ma su questo deve essere purificato il nostro sguardo nei confronti dell'altro allora dobbiamo aiutare i nostri giovani e forse anche noi stessi a educare il nostro sguardo a purificarlo proteggendolo da un certo tipo di immagini se necessario quando anche per caso si viene come dire si cominciano a vedere delle immagini inappropriate alla televisione o quello che è su internet subito girare lo sguardo subito levare l'immagine perché poi non dimentichiamo che specialmente nel cervello maschile queste immagini si imprimono nella memoria e tornano anche ovviamente come forma di tentazione magari in momenti in cui neanche lo vogliamo invece ripartire dal valore della persona ci aiuta anche ad avere rispetto prima di tutto per noi stessi e poi anche per l'altrui corporeità vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata del diario di bioetica oggi c'è radioromalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org